DS presenta il restyling della piccola di casa, DS3. Questo equipaggiamento è stato fatto in nome della semplicità e dell'eleganza, come dimostra l'abbandono della denominazione crossback. Sebbene le forme non siano state stravolte, è stato fatto un lavoro di sottrazione per diminuire l'eccesso di cromature e migliorare la firma luminosa, ora con la componente verticale sdoppiata decisamente più accattivante. Altre novità sostanziose si trovano all'interno della vettura. Qui le finiture di alta qualità e il design eccentrico sono stati mantenuti, ma l'organizzazione dei tasti è stata rivisitata per coinvolgere sia la plancia che il volante, rendendo la guida più pratica e facile. Inoltre il sistema di infotainment è stato aggiornato ed è ora più grande, definito ed evoluto nell'utilizzo. L'alta tecnologia è presente anche nel LED-up display, che rimane comodo da utilizzare per non staccare gli occhi dalla strada, anche se non è proiettato direttamente sul vetro anteriore, come in alcune concorrenti. Per quanto riguarda la gamma motorizzazioni, non ci sono novità sul fronte termico, ma la variante E-Tens da noi provata, l'elettrica per intenderci, è stata potenziata sia nella potenza che nell'autonomia. Con 155 CV di potenza ed una batteria da 54 kW, la nuova DS3 E-Tens ha un'autonomia, dichiarata dalla casa, di oltre 400 km in ciclo misto, riducendo così l'ansia da ricarica e garantendo un piacere di guida elettrico nel silenzio, accentuato dall'assemblaggio di livello premium. Nonostante non sia una vettura adatta ai lunghi viaggi, DS3 è perfetta per la circolazione in città, grazie ai consumi ridotti e per le medie percorrenze, senza il timore della ricarica. Lo stile ricercato e raffinato completa il tutto, regalando personalità ed eleganza ad un progetto che unisce molte delle richieste del mercato attuale, altezza da terra, sostenibilità, stile ed autonomia. Con un prezzo di partenza di oltre 41 mila euro, DS3 è la ricetta completa per chi cerca una vettura pratica, sostenibile ed elegante.